ciao a tutti oggi vediamo una pirografia su un tronchetto di legno di ciliegio abbiamo tagliato alcuni rami di questo albero e poi ha affettato uno dei rami per fare dei tronchetti da pirografare prima li ho fatti un po asciugare ho scelto un tronchetto purtroppo asciugandosi si sono formate anche delle piccole crepe ma niente di grave si può comunque pirografare prima passo della carta vetrata per lisciare bene la superficie in modo che non ci siano parti ruvide e la punta del pirografo possa scivolare bene una volta lisciata la superficie devo riportare un disegno il diametro è di circa 6 cm quindi piccolo piuttosto piccolo ho trovato questa testa di cavallo che mi sembrava adatta fisso la carta con della carta gommata poi con la carta carbone riporto con pazienza il disegno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco che ho finito quindi tolgo sia la carta carbone che il foglio con il disegno è rimasto piuttosto leggero ma si vede benissimo quindi posso cominciare ad utilizzare il mio pirografo se siete alle prime armi potreste essere interessati anche a questo piccolo manuale la tecnica della pirografia scritto da me e pubblicato da libri sandit ora torniamo al nostro legnetto e iniziamo a pirografare utilizzerò questa punta piatta che mi permette di lavorare sia di taglio che di piatto mi trovo molto bene con questo tipo di punta e piano piano facendo dei piccoli tratti inizio a tracciare il contorno grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.